video velocissimo ma video di sfogo soprattutto un consiglio, un consiglio per chi vuole andare fuori dall'Italia a lavorare che sia Londra, che sia Australia, che sia Germania che sia la nuova Guinea, non so ovunque dove volete andare io vi consiglio ma vi straconsiglio proprio con il cuore seguite questo mio consiglio, non lavorate per gli italiani non state sotto a un proprietario italiano questo perché io ho avuto delle brutte esperienze proprio per colpa di questi proprietari italiani e lo schifo sapete qual è lo schifo sapete qual è io, tu ora dirai eh, ma non lo so, ma che stai a dire no, allora, è vero, c'è da distinguere perché non tutti gli italiani sono uguali io ne sono consapevole e sono anche il primo a dirlo ho trovato anche bellissimi italiani qui però l'italiano quando ha la possibilità di fare qualche scappatella di fare qualcosa di illegaluccio, ecco, diciamo così di farti anche incazzare di fare l'italiano, ecco, diciamocelo chiaramente lo fa, lo fa e questa è una cosa che ti fa incazzare perché vedi lo stesso proprietario nella tua stessa compagnia dove lavori che con gli australiani, con gli francesi, con gli indonesiani si comporta diversamente si comporta diversamente si comporta come si comportano gli australiani con gli australiani come si comportano gli australiani con gli italiani, lui invece cosa fa? Con gli italiani si comporta diversamente, cioè nel senso, questa settimana non te la pago, te la pago la settimana prossima, queste quattro settimane non te le pago, te le pago tutte insieme dopo, invece con gli australiani non lo fa proprio, non lo fa, non le fanno queste cose, capito? Perché hanno paura, perché l'australiano è la tipica persona che per ogni cazzata va dall'avvocato, cioè è vero che bisogna restinguere da cazzata e cazzata, però l'italiano purtroppo, io lo posso anche dire davvero con dolore, se ne approfitta degli italiani, stesso discorso, io l'ho sentito da dire da altre persone, da altre nazionalità, ad esempio ci sono giapponesi che non vogliono andare a lavorare con i giapponesi, per i giapponesi perché per lo stesso motivo degli italiani, perché vengono sfruttati, spesso maltrattati e quindi vengono presi per il culo per molto tempo, io questo è un invidio, se dovete lavorare per italiani, io vi invito calorosamente a farvi rispettare, a farvi rispettare, a andare dai sindacati, dai sindacati del lavoro, fare nome alla polizia, perché ci sono persone che davvero meritano, meritano, manco la galera, non voglio dire la galera, però meritano di avere paure, meritano di cacarsi sotto perché che sono persone che stando in Australia non vivono la crisi, perché in Australia la crisi c'è, ma non è come quella italiana, quindi non c'è crisi, non è una crisi, è una finta crisi quella che vivono gli australiani, quindi non solo queste persone si fanno i soldi, ma pigliano anche per culo le persone che lavorano tanto e duramente per loro, quindi fatevi rispettare, fatevi rispettare, fatevi rispettare, è un invito, non abbiate paura di alzare la voce, non abbiate paura di farvi valere, non abbiate paura di andare dalle istituzioni e enti appropriati per la difesa dei diritti del lavoro, perché soprattutto all'estero quando succedono queste cose sono molto più ferrei rispetto all'Italia. Per ora è tutto ragazzi e ci vediamo ad un prossimo video, ciao ragazzi!